Noi ci troviamo attualmente nella quarta dimensione iniziale, stiamo superando la terza dimensione che è molto vincolata all'animalità e ci stiamo svincolando da questi istinti per passare nella quarta dimensione. Nella quarta dimensione avremo un corpo un po' differente, ci nutriremo in maniera diversa, ad esempio l'alimentazione da carne non ci sarà, perché non sarà necessaria. Oggi addirittura è necessaria per la stabilità del pianeta, l'alimentazione, la carne, ma no così come la facciamo su sta terra qua, che è una roba che non si può vedere. Gli allevamenti intensivi medicinali che si danno agli animali, il maltrattamento, questo è assurdo. È l'opera del demonio, se vai dentro quei posti lì dici ma che è? Smettiamo. Invece fatto con coscienza, in modo che è utile proprio al pianeta, invece poi non sarà utile, sarà dannoso mangiare carne nella quarta dimensione. Questo è un esempio per dire ci nutriremo di più di energie, eccetera. Anche se ci sarà ancora un'alimentazione, però il sistema digestivo sarà diverso. La quarta dimensione è quella da cui vengono gli extraterrestri, gli extraterrestri comunque diciamo in carne ed ossa. Sono le vere umanità. La quarta dimensione è la dimensione umana, minerale, vegetale, animale, umano. Quindi noi siamo ancora animali umani. Bisogna diventare pienamente umani. Quando saremo pienamente umani saremo svincolati da appunto quegli istinti di base, ma non è che avviene automaticamente. Uno, siccome abbiamo il libero arbitrio, deve compiere delle scelte e deve svincolarsi volontariamente da quegli istinti, da quelle situazioni. È più facile sicuramente farlo se hai un percorso, diciamo la missione, la nostra missione. Se hai un percorso da portare avanti è più facile, altrimenti sei preso perché soprattutto questa società è super erotizzata, super basata sul soddisfacimento dei desideri. Cioè il contrario, no? Perché il desiderio poi crea illusione. Cioè un desiderio soddisfatto è un desiderio alimentato in realtà. Questo è una cosa che in Oriente la sanno benissimo. È un desiderio che tu gli dai soddisfazione, gli stai dando da mangiare. Quindi si amplifica in realtà. E quindi questa società invece è basata proprio su quello. Fai ciò che vuoi. E per ogni tuo desiderio. Cioè tutti questi messaggi qua. Poi si traducono nel fatto che l'umanità, soprattutto occidentale, ma ormai è abbastanza globalizzata la cosa, è in preda alle emotività. Segui le tue emozioni. Ma che segui le tue emozioni? Che siamo stati educati come dei pazzi e quindi le nostre emozioni sono le emozioni di pazzi. Segui le tue emozioni? Sì, per andare all'inferno. Segui le tue emozioni. Devi dominare con il logos le tue emozioni e viverle sicuramente appieno, ma per sublimarle, per armonizzarle. Segui il tuo istinto. No, ma che segui il tuo istinto? Cioè, che so, è il cane che segue l'istinto? No, non è così. Oppure, adesso ci siamo evoluti, quindi segui il maestro interiore. Ma il maestro interiore, ragazzi, è pericolosissimo. Perché non che non esiste, ma va educato. Perché il maestro interiore, se non è educato, che maestro è? È il maestro che ti fa sbagliare. Dove è sto maestro interiore? C'è il nostro Pier Giorgio che spesso dice riguardo al maestro interiore Trovami l'ingegnere interiore. Vai, vai. Segui il tuo ingegnere interiore e costruisci una casa. Se nemmeno, voglio dire, una questione materica, come la costruzione di una casa, può essere frutto di una interiorità che la sento così e la costruisco. Figuriamoci la cosa più importante e preziosa che c'è nella vita, che è l'evoluzione. Non puoi evolvere seguendo un maestro interiore che è ignorante. Prima devi conoscere. Ecco l'importanza del guru, l'importanza del maestro, che noi oggi, siccome addirittura l'uomo vuole essere al posto di Dio, rifiuta anche i maestri, rifiuta tutti. Guardate come vanno oggi le scuole. Poi in Italia la scuola pubblica va pure mezzo bene. Io ho la mamma che è maestra di scuola elementare, la mamma di Francesca che è professoressa delle scuole superiori. Veniamo da anche i miei nonni, la bisnonna, i maestri. Ma nel tempo la scuola è stata svilita, il valore del maestro o dell'insegnante è stato svilito. Ma è assurdo. Io non dico che lo devi venerare, però quella è una figura di riferimento importantissima perché ti dà l'insegnamento. Allora tu, se svilisci quella figura, svilisci l'insegnamento che lui sta portando. Non è che gli devi regalare per forza il panettone a Natale perché se vuoi glielo regali, se no no. Però il punto è che quella persona rappresenta qualcosa, rappresenta un insegnamento che ti viene trasmesso, quindi va rispettato. Altro che invece veramente siamo ad un punto molto critico anche sotto questo aspetto dove vediamo i genitori, che i genitori attuali sono cresciuti con vent'anni di Berlusconi, quindi non è che possiamo pretendere, nel senso delle tv di Berlusconi, non è che possiamo pretendere tanto, no? Se, voglio dire, da Leveline a Colpo Grosso a, insomma, tutte queste stupidaggini qua, le tv prese dall'America, che, voglio dire, sappiamo a che grande livello sono impiantate qui. Quindi sono i genitori di adesso, i genitori cresciuti comunque già in una società con delle falle, ecco, anche pesanti, a livello proprio di valori. Oggi i valori? Dici la parola valori? Sei retrogrado. I valori? Fascista! Ma come? I valori? Cioè, il bene, la virtù, il rispetto del prossimo, i valori? no, 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 sei di destra. Quindi, quello che voglio dire è che arriviamo, perché non so da dove sono partito, ma so dove voglio arrivare, le piene umanità della quarta dimensione non hanno questi problemi, hanno sviluppato già quei valori che gli consentono di vivere lì. Prima dicevo, perché non è una cosa che avviene spontaneamente, devi arrivarci tramite le tue scelte. Che significa? Significa che non è che c'è una c'è una quarta dimensione pronta già, che noi, ok, disincarnano, la prossima vita sono lì. Te la devi sudare, sei tu la quarta dimensione. Che significa? Il tuo livello evolutivo, il tuo livello evolutivo, produce la tua manifestazione, ok? Questo significa, a livello scientifico spirituale, significa che la tua evoluzione, quindi l'evoluzione si misura in capacità di amare, azioni di coraggio altruistico e conoscenza. Questa è l'evoluzione, quindi l'acquisizione di conoscenza che ci fa evolvere, quindi attraverso la sperimentazione. Noi, evolvendo in questo modo, produciamo uno psichismo che crea un corpo fisico. Il nostro corpo fisico viene dalla nostra psiche, dal nostro psichismo. Il famoso toroide, l'energia toroidale che ci circonda, è quella che crea il corpo fisico. Il corpo fisico viene creato, viene strutturato proprio a livello cellulare, viene organizzato, viene formato da quello che noi chiamiamo anima, la psiche, psiuke, la psiche. In Russia, negli anni 50, studiarono l'anima e la chiamarono il campo strutturatore di forma. Cioè, il campo che struttura la forma, un campo energetico che struttura la forma. Quindi, il nostro corpo fisico, in tutte le sue parti, è l'espressione espressione della nostra energia, che è l'espressione del nostro livello evolutivo. Quindi, se noi ci comportiamo già da adesso come Cristo comanda, è il caso di dire, stiamo acquisendo i valori quadridimensionali, perché quella ama il prossimo tuo come te stesso. Non era nient'altro che le chiavi per entrare nella quarta dimensione, perché quando lui parla è il nuovo, verranno il nuovo cielo e la nuova terra, il regno promesso, tutta sta roba qua, è la quarta dimensione. È semplice. È la nuova società che si struttura, la nuova società, ma è una società di quarta dimensione, perché dice, anche nell'Apocalisse, il leone berrà la fonte insieme all'agnello, il bambino giocherà alla buca dell'aspide, giocherà sulla tana della vipera, del serpente. Quella è una roba di quarta dimensione, non è una roba... Invece noi pensiamo che sia poesia, così. Non è solo poetica, ma è la verità che è poetica. E quindi, noi comportandoci in un certo modo, diventiamo di quarta dimensione. Ci sono persone sulla Terra che sono esseri di quarta dimensione, che si incarnano in un corpo tridimensionale, che tu, quando gli sei vicino, li senti. sono gli extraterrestri che si incarnano qua, perché lo fanno per svolgere delle missioni. Lo dimostrano di essere di quarta dimensione, perché non accettano i valori della terza dimensione. Cioè, non devono fare la fatica di svincolarsi dall'animalità. Cioè, loro arrivano che l'animalità, cioè, che tutti gli altri sono diversi da loro. Li vedi, sono... Si portano dietro dei valori diversi, dei valori del livello superiore. del livello superiore.